ciao a tutti oggi un nuovo video tutorial per il dt creativo di youplacraft oggi ho pensato di realizzare un home decor autunnale utilizzando soltanto della carta pattern un cartoncino e ovviamente tantissimi abbellimenti in placraft vi piace il progetto mi raccomando seguite il video ciao a tutti 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 ciao a tutti